Intanto buon compleanno, grazie per tutto quello che avete fatto, che è stato fatto in questi anni. Io nell'ultima legislatura ho avuto l'opportunità e devo dire anche il privilegio di condividere con Giulio Marcon l'attività in commissione bilancio. Anche se eravamo su posizioni politiche attraverso i nostri partiti politici alternative, contrapposte, lui era l'opposizione e io ero in maggioranza, alla fine ci siamo ritrovati a fare tante cose insieme e se oggi gli indicatori di ben essere ecosostenibili sono all'interno della legge del bilancio dello Stato, se la finanza etica ha avuto norme che tutti conoscete e grazie a Sbilanciamoci, alla campagna fatta e al lavoro straordinario che insieme abbiamo fatto con Giulio Marcon da maggioranza opposizione. Auguro a Sbilanciamoci un compleanno bellissimo che possa essere l'occasione di costruire un piano per i prossimi vent'anni ancora più ricco di proposte e di successi, perché i vostri successi sono i fatti che si realizzano e le istituzioni devono semplicemente ascoltarvi come si fa con tutti coloro che vivono avendo l'orecchio sulla strada e su Marciapiede. Grazie ancora e buon compleanno.